Se l'arte è il linguaggio che rende accessibili, democratici, i valori dell'innovazione, della tecnologia e della creatività concretizzati negli orologi Swatch, allora è l'arte e all'artista che si deve restituire accesso e visibilità in un contesto di responsabilità sociale di impresa. E' su questa visione che si basa la scelta di Swatch di dare via nel 2011 allo Swatch Heart Peace Hotel di Shanghai, spazio di massima libertà espressiva per artisti di tutto il mondo. Carlo Giordanetti, CEO di Swatch Heart Peace Hotel, spiega così per il Salone della Cesar l'iniziativa della Casa Svizzera. Per rendere completa la curva dell'impegno di Swatch nei confronti degli artisti, perché questa è la vera missione, è una responsabilità nei confronti degli artisti, è stato creato nel 2011 un progetto direi rivoluzionario e cioè è stato preso un edificio storico della città di Shanghai che invece di essere riportato alla sua funzione tradizionale di albergo come era nato nel 1906, è stato trasformato in una residenza per artisti. Quindi Swatch è diventato veramente un mecenate del mondo dell'arte in quanto ospita fino a 18 artisti, non solo, ma poi dà a questi artisti la visibilità naturalmente, perché questa è una delle altre funzioni di questo progetto, è lasciare la libertà di espressione agli artisti quando sono in residenza e poi continuare una parte del loro cammino sostenendoli e aiutandoli ad essere visibili all'esterno. L'operazione di Shanghai non ha nulla a che vedere con il prodotto, è un progetto autonomo di sostegno all'arte contemporanea che va ben oltre il concetto tradizionale di mecenatismo. È un'iniziativa che ha innescato infatti una forza creativa tale da vedersi riconosciuta come protagonista in contesti internazionali come la Biennale di Venezia. Credo che l'elemento di riconoscenza della validità di questo progetto, proprio come progetto di vera responsabilità verso il mondo, è stata l'accoglienza che la Biennale di Venezia ha dato allo Swatch Arpis Hotel, perché all'interno della collaborazione di Swatch con la Biennale è stato dedicato per ormai quattro edizioni uno spazio esclusivamente allo Swatch Arpis Hotel, in cui si sono presentati degli artisti che erano stati in residenza e che hanno creato delle opere, ovviamente appositamente per la Biennale, ma che hanno avuto la riconoscenza e la riconoscibilità da parte dei curatori della Biennale stessa. Quindi sono stati artisti proposti da Swatch, ma approvati dai curatori della Biennale. Credo che questo sia, forse nel mondo dell'arte contemporanea, uno dei riconoscimenti più alti per un progetto assolutamente indipendente. Il 2020 passa la storia, inevitabilmente, come l'anno della pandemia da coronavirus. In questo contesto parlare di arte e responsabilità può aprire prospettive di riflessione e conoscenza sul vivere quotidiano, tutt'altro che scontate. Ed è questo un segnale che già si fa sentire da Shanghai. Posso dire che in questo momento stiamo già ricevendo delle applications per futuri periodi di residenza, direi il 50% delle quali ha il concetto di lavorare intorno alla pandemia come obiettivo. La maggioranza però la vede come una sfida a immaginare un futuro diverso. Credo che, almeno io mi auguro che questo faccia veramente parte di quello che gli artisti possono dare alla società, e cioè invece di guardare indietro, guardare avanti. Magari raccontando le proprie emozioni che saranno sicuramente state anche non positive, però sempre con questa idea di lanciarsi verso il futuro e verso un'altra possibilità. Dagli artisti, dunque, la spinta a guardare comunque al futuro. Stimolo che Swatch ha già nel suo DNA, ma che a sua volta rilancia in un gioco continuo di restituzioni tra impresa e arte. Swatch come marchio è un marchio che vive di futuro, è un marchio che vive sempre un po' sulla piede dell'anticipazione. Quindi abbiamo già cominciato a cambiare in certi elementi del nostro marchio i ritmi, per esempio di presentazione dei prodotti. Siamo probabilmente più focalizzati, meno dispersivi. Stiamo imparando a essere più impattanti, ma a non tralasciare l'emozione nella comunicazione, perché questa è una delle variabili chiave di tutto il nostro essere, è proprio questo concetto dell'emozione. E quindi guardiamo anche noi, ovviamente, al futuro con curiosità.